una sola parola video i video sono fondamentali per il tuo business di dropshipping e se ancora non sai come sfruttarli al massimo per le tue inserzioni su facebook allora devi vedere questo video fino alla fine in quanto andrò a spiegarti esattamente come devi utilizzare i video ads per il tuo business di dropshipping con shopify tutto questo dopo la sigla ricorda di iscriverti al canale proprio in questo momento attiva la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornato e aggiornata sui miei prossimi video e metti un bel mi piace proprio sotto questo video per pompare l'algoritmo di youtube al massimo benvenuti gladiatori stefano montana qui per voi oggi con un nuovo video fondamentale riguardante la pubblicità tramite video sui social media in particolare tramite facebook ads ma anche pinterest youtube ragazzi una volta che avete il video che è lo strumento principale per qualsiasi campagna di marketing tramite social media avete praticamente le chiavi per il successo con il vostro negozio shopify in dropshipping o in private label la prima cosa in assoluto che dovete fare è semplicemente avere un prodotto e creare il video oppure nel caso in cui tu non sappia cosa vendere te lo diciamo noi ovvero grazie a montana winning products che è un servizio che abbiamo creato appositamente io e il mio team per aiutare a guadagnare il prima possibile ora tu ti starai chiedendo che cosa c'entra montana winning products con i video ads da utilizzare per facebook è molto semplice perché noi abbiamo pensato proprio a tutto e ovviamente abbiamo pensato alla inserzione che devi utilizzare per il tuo prodotto vincente vi ricordo che qui abbiamo un prodotto vincente diverso per ogni giorno qui abbiamo il copy ovviamente il livello di saturazione statistica express abbiamo il top competitor e abbiamo qui il video il copy consigliato ovviamente abbiamo anche il bottone per scaricare il video direttamente il copy da utilizzare per le inserzioni facebook che vi ricordo ragazzi comunque con il video potete fare veramente tutto quindi qualsiasi social media lo potete utilizzare pagina instagram consigliato sponsorizzazione valutazione in generale ma quello che ci interessa a noi in questo video è il video che possiamo utilizzare per fare pubblicità ok come deve essere questo video deve essere accattivante deve essere stop scrolling ovvero deve far soppare le persone che scrollano la home specialmente a mobile ragazzi vi ricordo che il 90 per cento delle vendite avviene su mobile quindi tramite smartphone ed è fondamentale avere dei video che catturino l'attenzione subito ok che facciano vedere qualcosa che non si vede tutti i giorni anche perché le persone immaginatevi che scrollano 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 molto velocemente tutta la vita ormai molto più frenetica quindi hanno bisogno di qualcosa che li faccia fermare un attimo e gli faccia dire ok che cos'è questo interessante mi potrebbe servire soprattutto quando parliamo di prodotti problem solving ok quindi che risolvono un problema per quella particolare nicchia di mercato fondamentale regola fondamentale per il tuo business e drop shipping per questo noi abbiamo creato ovviamente diversi prodotti e per ogni prodotto ovviamente un video relativo il miglior video che c'è a disposizione in quel momento per fare le tue pubblicità su facebook ora nel caso in cui tu avessi il tuo prodotto oppure anche un prodotto tuo in drop shipping che vuoi magari massimizzare tramite video personali video personalizzati direttamente da te quindi li vuoi creare li vuoi giostrare come vuoi vuoi magari spostare una sequenza del video rispetto all'inizio per vedere se funziona meglio soprattutto ragazzi vi ricordo che le creatives quindi le inserzioni che andrete ad utilizzare devono essere ogni volta innovative e devono essere diverse ok quindi non potete utilizzare una sola inserzione per sempre ve lo auguro ci sono certe inserzioni certi gruppi inserzioni comunque dei certi ads che vanno per molto tempo ti fanno guadagnare per tanto tempo però solitamente facebook vuole soprattutto facebook e instagram vogliono un rinnovamento delle ads ok quindi del video delle immagini del copy eccetera eccetera ed è per questo che è fondamentale sapere esattamente come creare un video ad di qualità ok quindi un'inserzione facebook o instagram di qualità eccezionale ora se voi state iniziando con il commerce e drop shipping sicuramente avete un budget non altissimo per quanto riguarda il vostro business quindi volete sicuramente risparmiare inizio sui programmi come final cut o adobe premiere che sono sì tool eccezionali professionali che ti possono far fare qualsiasi cosa però ovviamente c'è dietro molto più studio molta più fatica per creare inserzioni anche se ovviamente quello è il livello top ok ma nel caso in cui tu volessi crearti le tue inserzioni ho trovato questo sito ok questo sito che praticamente ti permette di creare qualsiasi tipo di inserzioni hanno diverse tipologie di video come potete vedere facebook youtube instagram facebook feed instagram post eccetera eccetera hanno anche delle categorie in base ovviamente al vostro prodotto contenuti tutorial eccetera eccetera comunque ragazzi vi lascio il link in descrizione per andargli a dare un'occhiata è molto semplice e intuitivo e ha un costo relativamente basso ok quindi se voi volete crearvi le vostre inserzioni da zero e sia ottimizzato per facebook per instagram al 100% in modo da farvi vendere molto di più in quel caso ovviamente è meglio affidarsi a qualcuno che i video li fa ok per professione quindi montana winning products sicuramente noi ti diamo tutto per ogni prodotto come abbiamo specificato in precedenza ma nel caso in cui tu non volessi crearti il tuo video personalizzato per il tuo prodotto dropshipping o private label in generale per il tuo negozio e-commerce per il tuo brand la soluzione migliore è affidarsi proprio a degli esperti come winning us media ok loro sono principalmente un sito comunque un'azienda che produce video specializzati per il dropshipping e per l'e-commerce ma in particolare per il dropshipping infatti loro possono crearti dei video esempio come questi qui vedete vi fanno vedere proprio l'esempio del video ad come deve essere vedete qui in questo caso come con questo video sono video che potete vedere tranquillamente voi basta andare sul sito che vi metto in descrizione trovate il link di winning ads media in descrizione con il 10% di sconto che mi hanno concesso gentilmente loro del team che sono comunque non team ma anche qui in italia quindi l'unica cosa che dovete fare è cliccare qui sotto il link che trovate in descrizione e controllare proprio direttamente come vengono create le ads e come dovete crearle voi ok quindi ovviamente loro hanno già tutto il database con tutti i video che vi creeranno da zero quindi l'unica cosa che dovete fare è semplicemente andare qui e comprare il vostro video già fatto se volete magari la copertina per la vostra inserzione facebook oppure volete il fast delivery in 24 ore comunque basta che aggiungete al carrello e ordinate il vostro video ok quindi già fatto ovviamente più ne comprate più risparmiate come abbiamo detto in precedenza è sempre meglio avere molti più ads a disposizione quindi molti più molte più inserzioni da utilizzare per le nostre campagne facebook potete vedere come vengono create potete scegliere fonte potete dire qualsiasi cosa loro comunque hanno anche facebook che loro mettono a disposizione il loro team anche in italiano quindi andate più che tranquilli va bene sicuramente ragazzi la miglior soluzione assoluto è far fare le cose a chi le cose già le sta facendo o le ha fatte ok puoi sempre scegliere di fare tutto da solo però sappi che la via è sempre più dura senza qualcuno che ti aiuta direttamente per questo che clicca sul pulsante iscriviti adesso e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video che usciranno e usciranno ragazzi quindi saranno sempre più utili per te e per il tuo business per aiutarti a guadagnare online tramite shopify dropshipping e l'e-commerce se ancora hai dei dubbi riguardanti il social media marketing o in particolare i facebook ads che abbiamo trattato in questo video instagram ads inserzioni pubblicitarie tramite video la tua attività e-commerce e se hai bisogno di aiuto ed informazioni per montanabusinessonline.com puoi prenotare la tua chiamata qui tramite l'icona del telefono e noi ti richiameremo gratuitamente quindi basta procrastinare ci vediamo al prossimo video